benvenuti o bentornati sul mio canale io sono silvia e oggi andremo a scoprire insieme a sfogliare i contenuti del primo numero di burda maglia 2021 aprendo le prime pagine della rivista abbiamo già una panoramica di quelli che saranno i contenuti che andremo a vedere singolarmente un sistema che ho particolarmente apprezzato di burda maglia è quello di indicare tramite un sistema a pallini il grado di difficoltà di ciascun progetto un'indicazione secondo me molto utile soprattutto per le principianti che vanno a cercare i capi di abbigliamento basic da poter replicare per muovere i primi passi nel mondo del lavoro a maglia per chi non conoscesse la struttura di burda maglia nella parte finale della rivista sono presenti le spiegazioni passo passo per ciascun progetto insieme agli schemi della struttura e ovviamente anche agli schemi dei punti un pochettino più complessi parlando di tendenze di stagione un must have è sicuramente il capo di abbigliamento con la lavorazione a trecce e il primo capo che ci viene proposto è infatti un cardigan lungo oltre i fianchi dalla linea morbida dove la lavorazione con le trecce va ad alternarsi a un punto fantasia il tutto viene poi ripreso con una bordatura a coste anche sui polsini è un progetto lavorato con una lana calda e bio quindi va perfettamente a sostituire un'eventuale giacca oppure un blazer e si adatta anche a molteplici outfit infatti qui la nostra modella lo indossa con un vestito lungo ma immaginatelo ad esempio su un pantalone anch'esso dal taglio morbido con una camicetta classica oppure per andare a rendere un pochettino più romantico un look sportivo magari con maglietta e jeans seguendo le tendenze della stagione troviamo questo cappotto dal taglio molto basic che può essere eseguito anche dalle principianti del lavoro con i ferri da maglia perché il progetto ha una struttura molto lineare cade molto molto morbido e la maggior parte del lavoro è eseguito a maglia rasata e abbiamo poi in alcune parti del progetto la lavorazione a grana di riso in particolare se guardiamo la bordatura dei polsi e la rifinitura dei bordi è tutto lavorato con lo stesso punto che cosa rende particolare questo progetto oltre ovviamente al taglio molto basic sicuramente anche la scelta del filato il progetto è stato infatti realizzato utilizzando due filati di colore diverso che lavorati contemporaneamente danno questo effetto melangiato molto di tendenza un altro capo sicuramente di tendenza e molto versatile è questa giacca a mantella che ci viene proposta con un punto maglia allungato è un progetto lavorato a pannello e la sua particolarità è aver incluso nella lavorazione sia del davanti che del dietro già la nostra manica quindi avremo una cucitura solamente nella parte superiore e laterale della giacca a mantella mentre per quanto riguarda la rifinitura delle maniche che vengono poi risvoltate e per le tasche è stata scelta una lavorazione a coste un capo che sicuramente non può mancare nel nostro armadio creativo è il poncio che qui ci viene proposto in due versioni diverse ma entrambe di tendenza come prima proposta abbiamo il poncio asimmetrico quindi più lungo dietro e più corto davanti in questo caso uno sprone rotondo molto molto alto che va poi a trasformarsi in un collo in un leggero cappuccio nella proposta successiva abbiamo invece un poncio dal taglio lineare e simmetrico con aperture per le braccia reso particolare da questa bordatura nella parte inferiore lavorata a coste stessa lavorazione viene poi ripresa qui nella parte superiore per quanto riguarda il collo per le maglieriste amanti dei punti traforati e particolari abbiamo la proposta di un gilet lungo a manica corta quali sono le particolarità di questo modello sicuramente questa lavorazione traforata che genera proprio un effetto pizzo a rombi che viene ripresa sia nella parte frontale del progetto sia nella lavorazione sulla schiena mantenendo invece neutre le spalle la moda ovviamente non è solo femminile quindi diamo uno sguardo anche a quella che è la proposta per gli uomini in questo caso un pull over dal taglio molto molto morbido con queste maniche ampie e la spalla leggermente calata lo potete notare qui la lavorazione è una costa inglese che grazie ad un gioco di aumenti e diminuzioni crea questo disegno molto particolare qui sulla parte frontale lavorazione invece molto semplice sempre a coste per quanto riguarda il collo i polsini e la parte inferiore del pull over sempre sui toni del bianco vediamo ora due proposte femminili la giacca lunga il pull over con le trecce per quanto riguarda la giacca siamo sicuramente davanti a un progetto elegante sia per il taglio del modello che per la scelta dei punti nei due quarti anteriori e sulla parte posteriore abbiamo un punto a nido d'ape una lavorazione invece sulle maniche a punto onde il tutto contornato da una bordatura a coste l'insieme come abbiamo detto è molto elegante e la scelta di lavorarlo con una lana di questo tipo lo rende sicuramente un capo consistente ma anche morbido allo stesso tempo passando al pull abbiamo sicuramente già a primo impatto una sensazione di morbidezza e di calore data sia dalla scelta del filato infatti parliamo di un hair ma anche da questa lavorazione con le trecce che come abbiamo detto a inizio del nostro sfoglio è un must di questa stagione abbiamo poi una semplicissima lavorazione a coste ripresa nella parte inferiore del progetto sul collo e sui polsini per le amanti dei maglioni da uomo stile nordico abbiamo questa proposta in pura lana merino un progetto con manica raglan dove vanno a giocare insieme varie combinazioni di punti sia nella parte centrale delle maniche che nel fronte e retro del progetto abbiamo una grana di riso doppia che va poi a giocare a mischiarsi con queste trecce di dimensioni diverse un tocco classico a questo genere di maglioni è sicuramente la bordatura del collo dei polsini nella parte inferiore appunto coste per chi ama le linee morbide e semplici ma che non vuole rinunciare anche a un tocco un po particolare questo cappotto con cappuccio è un'ottima proposta quali sono le particolarità di questo progetto sicuramente la presenza del nostro cappuccio lavorato con i ferri circolari ma anche la scelta del filato il punto infatti è veramente molto semplice una maglia rasata dritta resa però particolare da questo filato irregolare con effetto melangiato quindi vedete andando semplicemente a giocare con un filato un po diverso dal solito come una semplice texture può diventare particolarissima parlando sempre di filati particolari abbiamo ora davanti un pullover sportivo un progetto particolare anche per la sua struttura infatti se andiamo a vedere abbiamo una spalla ascesa possiamo notarlo qui questa manica che viene poi arricciata nella zona del polsino che gli dà proprio questo taglio sportivo e questa lavorazione con le trecce nel pannello frontale e sulle maniche vedete continua a ritornare questa proposta delle trecce in molti modelli il tutto viene poi completato da questo collo risvoltato lavorato appunto coste stessa lavorazione che ritroviamo poi nella parte inferiore del progetto per questo cardigan dalle linee semplici che va a giocare con questi scambi di colore intervallati da delle linee un pochettino più scure abbiamo un gioco di ferri uncinetto cioè il davanti e il dietro del progetto vengono lavorati insieme fino allo scalfo manica dopodiché si procede a pannello la particolarità è la bordatura che viene fatta con uncinetto insieme alla confezione di alcune parti e rifiniture appunto gambero per questo progetto lavorato interamente a coste abbiamo due tipologie di lavorazioni differenti lavoriamo infatti a coste a pannello in giri di andata e ritorno e poi a coste in circolare quindi uniamo sia i ferri dritti che i circolari in un unico modello in particolare la parte superiore del progetto quindi le maniche e lo sprone vengono lavorati insieme da polso a polso in un'unica soluzione vengono poi ovviamente aggiunti la parte inferiore del progetto e il collo lavorati sempre a coste abbiamo ora un progetto molto basic dalla linea morbida in questo alpaca sui toni del rosa pastello perché lo definisco un progetto basic si tratta di una costruzione a pannello con il collo ripreso con i ferri circolari lavorato in un punto veramente molto semplice un punto a coste con un taglio particolare che viene generato qui sul laterale della cucitura l'orlo nella parte inferiore è asimmetrico vedete come rimane molta più lavorazione nella parte posteriore rispetto alla frontale questo genera un piccolo spacchetto qui sul laterale che dà movimento al progetto e lo rende ancora più particolare non solo maglioni cardigan e giacche ma anche accessori come sciarpe all'interno di questo burda maglia 2021 una sciarpa veramente super basic adatta alle super principianti del lavoro a maglia poiché si lavora semplicemente con i punti base la nostra sciarpa infatti è lavorata semplicemente a maglia rasata con alcune parti a maglia legaccio la particolarità del progetto è sicuramente data da questa alternanza di colori dai toni del blu a quelli del rosso abbiamo ora un cardigan lavorato con i ferri circolari di reso particolare per la scelta del filato abbiamo infatti una ciniglia sui toni del rosa lavorata in prevalenza costa inglese con due trecce sulle parti anteriori del progetto un capo che può essere sia elegante che sportivo a seconda della tipologia di outfit che andiamo ad indossare sicuramente molto morbido e molto caldo per le amanti dei ferri circolari ma soprattutto delle linee semplici e morbide abbiamo questo pullover lavorato con un punto molto semplice ma reso particolare dalla scelta del filato abbiamo infatti una lavorazione semplice a costa in circolare per quanto riguarda i polsini e lo scollo mentre invece per il resto della lavorazione abbiamo una semplice maglia rasata sicuramente una particolarità di questo progetto è la scelta del filato molto bello così in multicolor secondo me particolarmente bello anche in monocolore un progetto sicuramente adatto a chi ama le linee morbide ma soprattutto per tutte quelle che vogliono un pullover che non vada a segnare particolarmente il punto vita non solo lavora i ferri in questo numero ma anche un po di uncinetto vediamo un gilet con punto pizzo lavorato appunto ad uncinetto quali sono le particolarità di questo modello abbiamo questo scollo av con una serie di punti che va a ricordare il lavoro fatto a coste con i ferri da maglia mentre invece la parte frontale e posteriore del progetto è lavorata tutta con questo punto pizzo viene ripresa la stessa bordatura dello scollo nella parte inferiore con questa piccolissima spaccatura qui sulla cucitura del fianco è un modello sicuramente molto versatile qui la modella lo indossa sopra un vestitino ma possiamo immaginarlo anche per un look un pochettino più sportivo ad esempio con dei jeans vediamo ora la proposta di un modello molto particolare il cardigan incrociato una lavorazione a pannelli molto semplice che ricorda quella di altri cardigan per la parte posteriore reso però invece particolare per la parte frontale di questo incrocio sul davanti reso particolare poi dal fiocco il tutto lavorato a costa inglese in orizzontale la scelta del punto non è casuale infatti questa tipologia di lavorazione dona particolare elasticità come filato è stato scelto questo tono di rosa di alpaca caldo e leggero in questa parte della rivista vediamo le proposte di progetti antifreddo perché lavorati con filati particolarmente caldi il primo capo che ci taglio lineare lavorata con un mix di baby alpaca e lana merino extra fine una giacca lunga oltre il punto vita resa particolare sicuramente da questo punto foglie leggermente a rilievo che troviamo su tutte le parti del progetto comprese le maniche abbiamo poi una bordatura importante per quanto riguarda i polsi e la parte inferiore del progetto che viene poi completato dalla bellezza di questi semplici bottoni facciamo un salto nei progetti basic con questo mini pool in alpaca lavorato con due fili contemporaneamente la prima parte del progetto è lavorata con i ferri circolari fino allo scalfo manica e il punto scelto è una semplice maglia rasata come si ottiene quindi questo effetto traforato semplicemente eseguendo la maglia rasata utilizzando dei ferri grandi quindi la lavorazione si dilata leggermente ma il progetto rimane comunque caldo perché ricordiamo è lavorato con un filato di alpaca uno dei miei progetti preferiti di questo numero è sicuramente questo maxi cardigan un progetto che può essere indossato anche su un outfit elegante ma che io vedrei molto bene anche su un qualcosa di un pochettino più sportivo andiamo a vedere insieme la struttura di questo progetto la linea è molto morbida con questa spalla ascesa e sia le maniche che il corpo sono lavorate appunto fantasia abbiamo il particolare delle tasche che sono lavorate a maglia legaccio lavorazione che viene poi ripresa nei bordi anteriori del progetto bordi che però vedete non arrivano diciamo fino in fondo al nostro progetto questo spazio che viene lasciato qui sul davanti secondo me gli dà molto movimento è sicuramente un capo versatile secondo me come vi ho detto prima si può indossare anche con outfit molto diversi se qualcuno avesse voglia di usare ad esempio io lo vedrei molto bene con una maxi cintura esterna che vada poi ad evidenziare il punto vita dando un effetto morbido tra i capi versatili di questo numero abbiamo sicuramente questo mini poncho o crop top un poncho che possiamo indossare con diversi outfit lavorato sia con i ferri dritti che con i ferri circolari e che sicuramente si fa notare grazie a questa texture particolarissima ricavata da quattro diverse lavorazioni di trecce e ovviamente abbiamo lo spazio per le maniche le trecce non ci abbandonano anche in questo cardigan da uomo lavorato con i ferri circolari un cardigan che potrebbe tranquillamente andare a sostituire una giacca oppure un blazer ma molto più comodo e confortevole questo tono di grigio dove abbiamo detto troviamo le trecce alternate a un punto tessuto insieme anche ovviamente a una lavorazione a coste che ritroviamo lungo le bordature anteriori e sui polsini se non avete mai pensato di unire la lavorazione di un cardigan a quella di guanti senza punte questo modello vi farà cambiare idea abbiamo infatti un maxi cardigan lavorato principalmente a maglia rasata con queste noccioline che danno un movimento e volume con la particolarità della manica che come potete vedere continua fino alla mano trasformandosi poi in una sorta di guanto senza dita ovviamente con l'asola per andare a inserire il pollice la lavorazione a coste e poi ovviamente ripresa per il collo che vedete possiamo portare tirato su e chiuso oppure aperto come indossato in questa foto dalla modella tra i capi di abbigliamento maschile non poteva però mancare un modello super basic eseguibile anche dalle principianti abbiamo infatti questo maglioncino pullover da uomo dal taglio molto classico eseguito a pannello con un punto tessuto e nelle rifiniture soprattutto per quanto riguarda collo e polsini e il bordo inferiore ma abbiamo invece una lavorazione a coste un modello quindi molto basic per chi vuole approcciarsi al suo primo maglione da uomo ci tuffiamo ora nell'ultima parte della rivista quella dedicata al rosso mattone brick red con un capo che mi ha colpito subito alla prima occhiata si tratta di un poncio taglia unica quindi non dobbiamo fare particolari variazioni per quanto riguarda la realizzazione del progetto che presenta nella parte superiore questo collo ad anello e l'apertura sul davanti che vedete come va a slanciare proprio tutta la figura particolari secondo me molto carini la presenza delle tasche qui frontali con lo stesso punto del progetto che è un punto fantasia e la presenza qui nella parte inferiore del poncio di queste frange ricavate dallo stesso filato del progetto un progetto un po particolare soprattutto per le proporzioni questo maxi maglioncino oversize subito a colpo d'occhio che cosa ci colpisce a parte questo color mattone molto molto bello sicuramente la spalla completamente scesa fino quasi al gomito e ovviamente questa manica così molto importante e il tutto lavorato con lo stesso punto si tratta della mezza costa inglese eseguita con un misto di lana e di alpaca anche lo scollo è molto particolare uno scollo rotondo se volessimo realizzare questa maglia ancora più grande potremmo addirittura portarla su una sola spalla cioè facendo scendere ancora di più la scollatura rotonda che di per sé è già molto accentuata completa ovviamente la nostra lavorazione per quanto riguarda lo scollo una lavorazione appunto coste la proposta successiva è quella di un maxi pull che potremmo però anche vedere come una sorta di vestito infatti va molto oltre la linea dei fianchi avvicinandosi sempre di più al ginocchio se lo realizzassimo magari di qualche centimetro più lungo potremmo tranquillamente utilizzarlo come vestito magari sopra un leggings o una calza coprente quali sono i particolari di questo progetto sicuramente va molto ad evidenziare il punto vita abbiamo questo collo ad anello lavorato appunto coste molto alto che viene poi ripreso anche nella lavorazione dei polsini e nella rifinitura della bordatura in basso mentre invece la parte centrale del progetto è lavorata con questo punto fantasia che ricorda un pochettino il punto stella concludiamo il nostro viaggio nel primo burda maglia di quest'anno con degli accessori una sciarpa ad uncinetto e un set composto da girocollo più cappellino ai ferri per quanto riguarda la sciarpa è un progetto molto molto basic adatto anche alle principianti lavorata con un filato grosso ed è eseguita con un punto fantasia è un capo molto versatile che si adatta veramente a qualsiasi outfit qui la vediamo indossata dalla modella addirittura con un cappotto elegante però reso anche un pochettino sportivo dalla presenza del jeans sicuramente attrae subito all'occhio questo colore rosso mattone intenso mentre invece per quanto riguarda il girocollo e il cappellino questi sono realizzati ai ferri è ovviamente un coordinato dove abbiamo un gioco di punti a run trecce e quant'altro e lo rendono comunque un look moderno anche qui adattabile a moltissime occasioni possiamo infatti indossarlo sopra un cappotto elegante ma perché no anche sopra una giacca sportiva in jeans sicuramente attrae l'occhio la lavorazione con le trecce che abbiamo visto essere una costante in tutto questo numero di burda maglia 2021 avete visto quanti spunti creativi possiamo trovare all'interno della rivista che vi ricordo potete trovare sia in edicola sia online il link di riferimento ve lo lascio nel box informazioni subito sotto il video se questo video vi è piaciuto l'avete trovato interessante fatemelo sapere con un commento e magari con un bel pollice in su e se non volete perdervi tutti i contenuti che ho in programma per voi vi invito a iscrivervi al canale e soprattutto ad attivare le notifiche cliccando sulla campanellina così riceverete un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video perciò io con il mio burda 2021 vi saluto vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto in un nuovo video sempre qui sul mio canale youtube ciao